Intanto prenderete il pane fresco, cioè fatto al momento e fatto con una fermentazione lenta, con lievito madre, cercando di rispettare la tradizione. Se possibile, eliminerei quei prodotti che sono spesso in giro, precotti, surgelati e poi inseriti nella distribuzione perché è più rapido, più economico, più comodo. Possono far male questi prodotti alla salute? No, male no, fanno male alla tasca e al palato perché poi alla fine avremo dei pani che non hanno grandissimi valori dal punto di vista sensoriali, per cui la sera sono già diventati o commosi o poco mangiabili, il giorno dopo probabilmente andranno nel cestino perché si trasformeranno in uno scarto, mentre invece basterebbe comprare del pane vero, nel senso fatto al momento e durerebbe di più e ci darebbe per molti più giorni un pane molto più buono. Quanto è importante la lievitazione per la digeribilità? Noi se facciamo lievitare significa che facciamo fare a dei microorganismi una parte del lavoro che tocca a noi. Più questi microorganismi hanno tempo di lavorare, più incominciano a digerire l'amido, più rendono tutto il pane digeribile per noi. Se noi invece acceleriamo perché abbiamo fretta, poi avremo un pezzo di pane, bello da vedere sicuramente, ma poi il nostro organismo faticherà di più perché è parte del lavoro che non si aspettava di fare, lo dovrà fare lui e questo non è bene. Il pane preferito dal professor Ritieni qual è tra le tante tipologie che esistono oggi? Non c'è un pane preferito, questo è il problema. Il problema è che quando il pane è buono, come si dice a Napoli, si mangia da solo. Però noi abbiamo la fortuna che in Italia abbiamo tantissimi panni, molto spesso buoni, addirittura abbiamo delle forme protette anche dal quinto europeo come Altamura e anche altre zone che sono veramente squisiti da mangiare. Grazie!